Allora, fino adesso abbiamo visto i tipi di cefalea primari e secondari, ma ce ne sono ancora altri tipi di cefalea. Ci sono le cefalee da lesioni intracraniche, cosa vuol dire? Che all'interno del cranio si è rotto qualcosa, nel senso che magari una vena o qualcosa, insomma c'è stato un problema all'interno del cranio, quindi non visibile dall'esterno. Poi ci sono le cefalee da lesioni extracraniche, tipo un colpo in testa piuttosto che una caduta o qualsiasi altra cosa che ha a che fare con fuori dal cranio. Le cefalee da nevralgie, che vuol dire? Che magari c'è il nervo che rimane schiacciato fra due vertebre e può produrre anche cefalea. E poi ci sono cefalee da patologie internistiche, che vuol dire che magari c'è un organo all'interno del corpo, che può essere il polmone, può essere il fegato, può essere la milza o qualsiasi altro tipo di organo, che produce delle problematiche e vanno a riflettersi poi con una cefalea. E l'ultimo tipo di cefalea è quello da sostanze, assunzione o sospensione di una determinata sostanza. Nel senso che se prendi un qualche tipo di sostanza che per l'organismo produce degli effetti, può venirti la cefalea. Ma allo stesso tempo, anche quando hai preso un certo tipo di sostanza per un tot di tempo, magari per anni, tipo uno psicofarmaco o cose varie, potresti avere la cefalea proprio per la sospensione di quel determinato tipo di farmaco. Chiaro? Grazie. Grazie. Grazie.